Una frase di Gandhi dice Odiare qualcuno è come bere un veleno e aspettare che muoia qualcun altro. Parlare di perdono non è mai facile. Le persone confondono il perdono con il dimenticare e spesso non si è disposti a cancellare il male ricevuto. Molte persone portano sulle spalle, nello stomaco, il peso del risentimento e della rabbia, accumulando sentimenti negativi nei confronti di coloro che li hanno feriti o delusi in passato o traditi. Tuttavia imparare a perdonare e quindi lasciare andare è un atto di straordinaria liberazione emotiva. Ti può garantire una vita più felice e appagante. Forse un amico ti ha veramente molto deluso, ti sei sentito tradito o ferito. Ogni volta che ci pensi ti viene mal di stomaco, ti agiti, sudi, non dormi la notte e forse questo risentimento ce l'hai dentro magari da anni. Praticamente sono anni che ti avveleni la vita. Ce l'hai con lui ma tutte le volte che lo pensi e ti ricordi di quello che è successo bevi quel veleno ulteriormente che ti fa ovviamente tanto tanto male. Lasciare andare non significa dimenticare o cancellare il passato, cosa fra l'altro che non sarebbe possibile, ma bensì significa staccarsi dal risentimento che si prova per quella persona per fare in modo che oggi e non ieri ti faccia dormire, ti faccia stare bene e non più provare quel malessere che appartiene al passato, ma che continua ad alimentare con il tuo rancore ancora oggi. E liberare voi stessi dall'amaro della rabbia. Il perdono è un atto di grandissimo amore verso se stessi, è un atto di autopreservazione emotiva. E liberarsi dalla prigione della rabbia e fare spazio ad una nuova luce, una luce positiva. Altrimenti il ricordo negativo ti tiene inchiodato nelle tenebre e ti danneggia. Ma esiste anche un altro perdono, altrettanto importante. Il perdono verso se stessi. Sappiamo che in passato avete commesso un errore e questo errore significativo magari ha ferito qualcuno. Certo, capita a tutti, anche io. Ne ho commessi diversi. Vi sentite in colpa per anni e quella colpa ha influenzato negativamente la vostra autostima e il vostro benessere. Perdonare voi stessi è un passo cruciale. Significa accettare che tutti commettiamo errori. Nessuno è perfetto. La perfezione non esiste e il passato non può essere cambiato. Perdonarsi significa accogliere l'opportunità di crescere e migliorarsi. Molte persone portano dentro il peso di ferite profonde causate da membri della famiglia, per esempio. Per esempio, il peso di un genitore che vi ha deluso o tradito. In questo caso, perdonare non significa giustificare quel comportamento, ma piuttosto che non abbiamo il controllo sulle azioni dei nostri genitori. Ecco, è ammettere e riconoscere questo. Il perdono qui vi permette di smettere di lottare contro un muro di incomprensione e risentimento e porta più gioia nella vostra vita. In sintesi, perdonare è un atto di cura e autoguarigione emotiva. I benefici del perdono sono molteplici. Riduce lo stress, migliora le relazioni, migliora la qualità del sonno e promuove in generale l'equilibrio mentale. Quindi, vi incoraggio a riflettere sulle cose e le persone che dovreste scegliere di perdonare. Sì, sono argomenti delicati, lo so. Puoi parlare con un nostro coach prenotando una consulenza gratuita. Ti auguro di cuore di perdonare e perdonarti. Ti auguro di amare e di amarti di più. Il perdono porta maggiore pace e felicità nella tua vita. A presto!